Il bisogno dell'altrove che emerge dai miei racconti nasce da un'esperienza di ricerca come antropologa nel sud della Giordania, iniziata alla fine degli anni 90. Il desiderio di uscire da un mondo conosciuto e circoscritto si è trasformato in una pratica costante di dialogo e scambio con l'alterità. Mi ha portato a contatto con le tribù beduine del Medio Oriente, con i misteri che il deserto nasconde. Mi ha fatto conoscere gli indigeni ecologisti di alcune isole del Centro America che praticano turismo sostenibile. Mi ha fatto incontrare la complessità del mondo femminile presso culture diverse dalla nostra, come quella islamica. Mi è immersa nella magica e inquietante spiritualità dell'India. In tempi recenti, quando il viaggio si è reso più difficile e talora anche impedito, ho scoperto un'altrove che, sebbene vicino, non conoscevo ancora a fondo o sul quale capita che poggiamo uno sguardo frettoloso. Oggetti e luoghi che siamo soliti identificare con l'antico hanno preso vita attraverso il racconto e le immagini. Il libro vuole essere non solo uno stimolo al viaggio, ma a guardare con più curiosità e immaginazione alla realtà che ci circonda.